Un punto di riferimento non solo nazionale ma internazionale per il capitolo delle politiche agricole. Così la ministra Teresa Bellanova ha definito Fiera Agricola durante il taglio del nastro della 114esima edizione. L'emergenza climatica è una questione urgente, geopolitica ancora prima che economica. Il Green Deal è un'occasione che non possiamo perdere, ha continuato Bellanova. La Kermes, dedicata all'agricoltura in Fiera fino a sabato, è iniziata nel segno anche di un altro tema molto caldo per l'agricoltura italiana, quello della cimice asiatica, l'insetto killer, responsabile di danni alle coltivazioni che superano i 740 milioni in Italia. L'emergenza è più importante in Veneto oggi la cimice asiatica che vale circa 175 milioni di euro di danni sui 741 milioni a livello nazionale. Colpisce circa 7800 aziende agricole ed è un vero fragello. Noi qui chiediamo un intervento straordinario da parte del governo col fondo di solidarietà e sospensione di quelli che sono i contributi, la realtà del mutuo è molto altra ancora. Fiera Agricola come una vetrina del distretto agroalimentare ma anche come il luogo dove promuovere maggiore attenzione per le categorie. È la partenza di battaglie che devono essere fatte per difendere i nostri imprenditori, i nostri agricoltori perché poi loro sono i primi custodi del nostro territorio, dei nostri campi e quindi è una battaglia, sono politiche che devono essere portate avanti nell'interesse loro ma poi in realtà non è solo esclusivamente il loro interesse perché quando si difende il nostro territorio si difende un'intera comunità.